Punto numero 24 per Castrovillari è 7, match point a disposizione per le lupette per raggiungere l'ennesimo titolo provinciale di questi ultimi anni. Botta, Rossi, non perfetta la ricezione, Procopenko non può attaccare, c'è una free ball per Castrovillari. Ludovica Botta, primo tempo per Barile, 25esimo punto per Castrovillari. Ancora una volta la bioresolva volevole di Castrovillari si conferma regina incontrastata a livello provinciale del volley giovanile under 14 non solo, vincendo la fase finale del torneo sul parche amico con un doppio 3-0, prima alla GM di Cosenza in semifinale, poi alla Pietra di Rossano in finale. Il raduno, iniziato già dal pomeriggio, aveva visto sui due campi, all'Itis, la prima semifinale tra Rossano e San Lucido, non ha avuto problemi il team di coach Zangaro, vecchia conoscenza della pallavolo castrovillese a livello maschile ai tempi della bet, grazie anche alla sua fuoriclasse Procopenko, che piegava le resistenze della fisiotoniche lasciando alle tirreniche un solo set. Nell'altra semifinale, al Franceschino Filpo, le padrone di casa, se la vedevano con la GM volley di Cosenza. Il divario tecnico tra le due formazioni era imbarazzante. Capitan Graziano, nei suoi turni a servizio, metteva in grande difficoltà la ricezione delle cosentine, inanellando una serie incredibile di ace. Completavano poi la supremazia, una eccellente Ludovica Botta in cabina di regia, e le attaccanti, Emilian Festa, Gazzineo, Rubino e Lara Graziano, che alla fine sarebbe stata poi premiata come miglior giocatrice del torneo. Ottima la prestazione, assolutamente efficace, il prestito arrivato per l'occasione da San Giovanni in Fiore, la centrale Barile. In finale si sono affrontate Rossano e Castrovillari, una partita senza storia che le lupette hanno portata a casa con un secco 3-0, senza mai rischiare nulla. Alla fine tutte abbondantemente oltre la sufficienza le ragazze di coach Graziano e Feoli, che hanno portato a casa l'ennesimo titolo provinciale. A fine match, come nella migliore tradizione del volley giovanile, le premiazioni. Quarta classificata la GM di Cosenza, terza classificata la Fisiotonic di San Lucido, seconda classificata la Pietra Volley di Rossano, prima classificata la Bioresolva Volley di Castrovillari. Premiati dall'arbitro Cupello, poi quattro direttori di gara e naturalmente i premi speciali. Migliore schiacciatrice del torneo, la Procopenco della Pietra Volley di Rossano. Quando hai sentito il tuo nome e le tue sensazioni? Sinceramente sono stata abbastanza sorpreso perché pensavo più che ricevesse il premio un'altra giocatrice del San Lucido, però è ovvio che è stata una sensazione molto piacevole. Migliore palleggiatrice Ludovica Botta della Bioresolva Volley di Castrovillari. Migliore palleggiatrice Ludovica Botta, ti stai cominciando ad abituare ai premi, perché è il secondo che prendi in una distanza abbastanza breve di tempo. Le tue sensazioni quando hai sentito il tuo nome? Allora io non dico mai, lo devono dire sempre gli altri, che sono stata brava e che me lo sono meritato. Quindi l'importante è quello che penso io, che pensa il mio allenatore, anche quello che pensano gli altri alla fine, perché se fai una bella prestazione vuol dire che te lo sei meritato. Migliore centrale Gazzineo, Bioresolva, Volley e Castrovillari. Oltre al primo posto, migliore giocatrice, migliore palleggiatrice, migliore centrale. Quando hai sentito il tuo nome, che cosa hai provato? Non ci credevo all'inizio, però poi ero felice. Coach, che cosa ti ha detto alla fine della partita, Coach Graziani? No, a dire la verità niente, però durante la partita mi dava sempre consigli, comunque ci spronava a fare sempre di meglio. E migliore giocatrice del torneo, il capitano delle lupette, Lara Graziano. Delle persone che hai intorno, tra mamma, papà, zie e soprattutto cugine, chi sarà più contenta di questo premio? Credo mio padre, perché in fondo anche se è così duro, non sembra che ci tenga lui, ci tiene più di tutti. Subito dopo le premiazioni, ai nostri microfoni, il bilancio finale della manifestazione di Tiziana Feoli. Grande prestazione, soddisfatti? Sì, soddisfatti perché abbiamo vinto questo torneo e siamo campioni provinciali. Non abbiamo giocato al meglio, sappiamo fare di più, erano molto tese, sentivano tanto questa partita. La cosa importante invece è che questa vittoria per noi significa la continuità, per noi significa che il lavoro paga, significa che ci sono delle ragazzine nuove che possono ricoprire tranquillamente i ruoli già dall'anno prossimo importanti nel campionato di Serie C. E questa è la cosa più importante per noi, ripeto, perché ogni volta vanno via delle ragazze e abbiamo sempre qualcuna che può rientrare al posto di chi se ne va. E questo per la nostra forza.